Buongiorno, siamo alla caserma Scalise di Vercelli, ci stiamo approntando ad accogliere i 436 candidati al concorso per agente di polizia locale. Il programma è il seguente, oggi ci saranno le prove psicoattitudinali, da queste verranno selezionati i ragazzi che parteciperanno alle prove scritte di domani, che si terranno al mattino la prima prova scritta, pomeriggio la seconda prova scritta. Dopo la correzione, dall'8 di agosto inizieranno gli orali e a seguire il corso allievi che terminerà il 10 di dicembre. È un'occasione molto importante per il corpo e per la città, da oltre dieci anni non si poteva esperire un concorso e quindi sarà un apporto, credo, positivo di professionalità e di entusiasmo che farà bene al servizio e alla comunità.